L'AMS è il più grande esperimento mai realizzato per la stazione spaziale. È un esperimento che vede in prima linea l'INFN, che ha progettato, ideato e realizzato prototipi di questo esperimento, che deriva dalle competenze che l'INFN ha sempre avuto sulla parte acceleratore di particelle. L'ASI ha contribuito in maniera primaria alla realizzazione, dal punto di vista proprio hardware, dei rivelatori di particelle, ma nello stesso tempo anche ha spazializzato queste idee che provenivano da un campo diverso, quello appunto della scienza delle particelle a terra, per poter poi usufruire di questa tecnologia anche per lo spazio. Che cosa si propone di fare AMS? AMS ha l'obiettivo di studiare i raggi cosmici in maniera molto accurata e molto precisa. Infatti ha a bordo una serie di rivelatori di particelle, che dovranno avere ognuno una caratteristica per lo studio dettagliato di questi raggi cosmici. E l'obiettivo finale è che attraverso lo studio dei raggi cosmici possiamo avere informazioni su quelli che sono le due campi più affascinanti in questo momento della scienza spaziale, lo studio della materia oscura e lo studio dell'antimateria. Se AMS, come promette, farà una scienza di livello in questi dieci anni di vita operativa che lo aspettano, probabilmente verranno riscritte nuove pagine dell'astrofisica e della scienza dell'universo e verranno esplorati dei campi che fino ad ora non erano nemmeno immaginabili.